Ciao, sono Simone, vi parlo dalla Geeks Academy e sono un amministratore di Anonadi Creation, una giovane società italiana che si occupa di sviluppo di videogame. Qui alla Geeks Academy mi occupo del coordinamento e faccio documento per tre corsi emerenti l'area gaming. Quindi mi occupo del corso di grafica, del corso di animazione e del corso per la realtà virtuale. A grafica for gaming studieremo tutto quello che riguarda la creazione del modello, sia il modello dei personaggi, dei chart del gioco, sia dell'environment, quindi di tutta l'ambientazione. Studieremo tutto il sistema di ottimizzazione, di texturizzazione, come creare materiali, come implementarli all'interno delle scene, come creare tutti i sistemi di illuminazione. Per quello che riguarda l'animazione invece andremo a comprendere che cos'è un raging, che cos'è un'armatura per un personaggio, come utilizzarla, le differenze fra le armature organiche e le armature meccaniche e come implementare questa animazione con l'interpolazione all'interno del nostro motore di gioco. In realtà virtuale è una delle tecnologie più rapide di sviluppo nell'ultimo periodo, grazie anche a tutta la condizione che ha avuto Facebook e YouTube sull'utilizzo e sulla divulgazione dei video sferici, dei video in realtà virtuale e tutto quello che riguarda i misori che stanno entrando nel discorso gaming con prezzi molto bassi e accessibili praticamente a tutti e che permettono un'esperienza di gioco ma anche un'esperienza ludica semplicemente su video molto più immersiva di quello che è un semplice schermo. A completamento di tutto quello che cercherò di trasmettervi è la mia esperienza nell'ambito dello sviluppo perché al di là della pura tecnica che è la realizzazione del gioco, la realizzazione dell'animazione, quello che dovrete essere in grado di fare è relazionarvi con gli altri membri del team, quindi con i vari programmatori, con i vari musicisti con chi si occuperà del montaggio delle scene eccetera eccetera eccetera. Per fare un gioco non potrete farlo sicuramente da solo, avrete bisogno di collaborare con altre persone ed è estremamente importante che voi comprendiate quali sono le loro problematiche e siate in grado di venirvi incontro per trovare una soluzione. Avvicinandosi al mondo del gaming, dello sviluppo molti vi diranno che è difficile, che è impossibile, che non ce la potrete fare mai non è propriamente vero. Basta che venite da noi con un bello zaino pieno di motivazione un bagaglio di passione importante perché sì è un mondo difficile, un mondo molto vasto dovrete conoscere molte cose ma se avete abbastanza passione per affrontare tutte le difficoltà, per salire tutti i gradini che vi porteranno poi al vostro risultato nessuno vi impedisce di farlo. Quindi voi aspettiamo, siamo qua il nostro bagaglio di esperienza è a vostra disposizione, non dovete fare altro che venirci a trovare il nostro bagaglio di esperienza. Quindi ti aspettiamo, vieni a scoprire se anche tu sei un geek. Grazie a tutti.